Velocità e forza per cercare il riscatto dopo il secondo K.O. consecutivo. L'Arezzo impegnato sul campo di Badia Alpino non si è limitato solo ad una seduta tattica in previsione della prima trasferta della sua storia al Casalder Marmo, casa della Racing Roma. Gli Amaranto sotto lo sguardo e il preparatore atletico hanno svolto esercizi incentrati sulla forza e sulla velocità. All'appello mancavano Ferrario e Alessio Luciani. All'allenamento non ha preso parte nemmeno Eugenio Durzi. L'esterno, ex aversa normana, ha seguito da bordo campo il lavoro dei compagni. Durzi ha infatti rimediato un colpo ieri in allenamento e il riposo concesso gli envia del tutto precauzionale. In campo, mister Sottili dopo i gradoni ha diviso la squadra in due gruppi. Da una parte una formazione incentrata sul 4-3-1-2, dall'altra un 4-4-2. L'abito che l'Arezzo indosserà in occasione della sfida con la formazione di Giuliano Gianni Chedda. Per il ruolo di terzino destro Luigi Luciani sembra in vantaggio su Enrico Bearzotti. Al centro, Solini e Barison, in attesa del rientro a pieno regime di Ferrario, vanno verso la conferma, mentre a sinistra non è da escludere il ritorno di Masciangelo. Al centrocampo i giochi sono fatti, con Cenetti e Foglia al centro e con Radia Sinistra. In attacco, avanti con Polidori e Moscardelli.